Torna a Floriano di Campli la quarta sagra del timballo teramano e dei prodotti tipici, con l'organizzazione della Proloco di Floriano in collaborazione con il Comune di Campli e dell'associazione Floriano Futura. Per il quarto anno consecutivo questa sagra si rinnova, diciamo che è una sagra a carattere sia provinciale che regionale, perché forse è una delle poche sagre che presentano un prodotto antico dalle nostre nonne. Il timballo è quello che fa il piatto base principale, poi abbiamo come secondo piatto le pennette alla norcina, poi abbiamo assortimento di carni, carne arrosso di maiale, arrosso di vitella, poi facciamo le salsicce, gli spiedini, le olive alla scolana, formaggio fritto, patatine fritte, quindi diciamo abbondanza da scegliere in tutte le salse. Quest'anno in collaborazione con il Gal Leader Teramano è previsto il 2 agosto un vero e proprio evento nell'evento Leader Village Floriano, con uno show cooking tematico tutto da gustare con grandi protagonisti, il timballo e la pizza dolce della tradizione. Il 2 agosto ci sarà praticamente questo show cooking di un chef locale che appunto rielaborerà questo piatto tipico locale, che è il timballo e la pizza dolce, quindi ci saranno una serie di iniziative, arriveranno dei turisti prelevate dalla costa, che praticamente gli faremo visitare i nostri monumenti più importanti a Campri e poi logicamente faranno questa degustazione di prodotti tipici. Poi ci sarà una rassegna di trattori storici e quindi diciamo che questo evento già molto importante, quest'anno sarà arricchito da questa rassegna no gastronomica.